Chi è? Sono io! Corriere, coniglietto corriere! Oh, com'è pesante questi regali! Ma tutto è per te questo qua? Sì! Ma sei stato così bravo, non lo so io! Eh, va bene! No, veramente, uno è per te e uno è per tuo amico! Eh, apriamone! Va bene, dai, apriamo! Anche io sono curiosa a vedere com'è! Io apro questo, va bene? E tu questo! Uno, due, l'avete messo apposta per me! Tre! Via! Via! Oh, oh, oh! Le scapole per un altro cucchino! Allora, prima che voglio tutto... Ma forse posso essere io o sono amico che prende regali? Cosa dici? Come no? Ma scusa, tu ti regalo tu te! Dai! Dai! Ma così bravo, ti ha portato due regali! Oh, anche io l'ho aperto! Oplala! Guarda! Vediamo chi ha più regali! Uuuuuh! E tu? Finalmente! No, 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 no! Questo qua non sto anche in pubblicità! Numero uno! Io ce l'ho capellino! Tu? Io ho la lavagnetta! Baba! Ah! 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 Guarda! Ma si, è così! Wow! Ma se possono andare anche i trenini qua! Mmmh! Sì! Ora mettiamo questo! Guardate! Ah! 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 Apriamo dai il prossimo! Ma anche io ho la pista! Ah! 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 questa è gigantesca sta montata si aspetti che la title non vi ho fatto vedere guardate 1 2 3 ah io ce l'ho ancora uno ah 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 questo è sicuro guarda che dobbiamo fare la vista mi aiuti ah si può anche rotolare indietro guarda come bella che bella guarda io metto questo ah io ce l'ho cos'è prismi confiabile ultimo regalo è questo dai partì anche te io ce l'ho ancora giornalino con adesivi con le cose da disegnare una palla o forse una una palla di qualità da per andare al mare che noi tra poco andiamo al mare vero vero cos'è una palla da baseball quella cosa fai ha un pallone normale alla fine vediamo 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 siamo attrezzate per la spiaggia molto frisbee la palla io ho ancora un regalo da giocare vedo ciò infiniti questo è più 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 sai che è ma è campionese di più più ma è campionese sì sì aspetta uno due tre viva c'è il gioco al canale Nikita mettete anche il canale di Nikita ciao ciao guarda c'è anche qua Kars avete visto che abbiamo pitturato sfondo stiamo facendo i lavori e vedrete dopo che cambiamenti saranno scrivete nei commenti cosa consigliate a disegnare sui muri scrivete nei commenti quale uovo vi è piaciuto di più di Kars o Trenino Tom ciao 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 ciao